5 su 5, il Frosinone Pallannuoto vince ancora e resta da solo al comando della classifica del campionato di Serie C. Allo stadio del nuoto di Frosinone i giallazzurri di Fabrizio Spinelli hanno battuto 11 a 7 la Juventus nuoto al termine di una partita ben giocata nonostante un inizio molto complicato con gli ospiti avanti di due gol. La reazione del terzo tempo ha portato alla rimonta e al quinto successo consecutivo che permette al Frosinone Pallannuoto di mantenere la vetta della classifica, punteggio pieno. Prossima sfida, sabato ancora allo stadio del nuoto di Frosinone, avversaria la Virtus Flaminio. Sono veramente soddisfatto oggi, abbiamo fatto una partita incredibile, soprattutto il terzo tempo, 7 a 1 di parziale, incredibile, incredibile. Adesso siamo primi, 5 vittorie, pensiamo alla prossima subito per fare la sesta. Nei campionati giovanili, prima vittoria in campionato per la Juniores di Massimiliano Murgia che ha battuto 7 a 6 il casetta bianca. Successo importante del Frosinone Pallannuoto anche nella categoria ragazzi. I giallazzurri di Federico Ceccarelli hanno vinto in trasferta 15 a 10 contro i Castelli Romani.